Facciamo con Barbara Molinario, buongiorno, Barbara segretaria generale di consumerismo. Oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione, noi abbiamo qui un piccolo carrellino, ci sono un po' di cose e come possiamo, il modo giusto per celebrare questa giornata è parlare di Giacomo Avanzi, no? Perché gli Avanzi servono sempre, ma lo vogliamo dire. Come parlare di non sprecare, esatto, è fondamentale, se si parla di alimentazione è imprescindibile parlare di non spreco, purtroppo noi italiani siamo un pochino spreconi, siamo un po' in basso nella classifica europea dei paesi che sprecano. Esatto, infatti avevo letto dei dati, ora li ritrovo, noi buttiamo davvero tanto. Circa 35 kg all'anno di cibo. Che è tanto. È tantissimo, cioè a parte è una questione economica, quindi non solo ecologica e anche morale, diciamolo, perché poi esistono persone che la spesa non possono farla, quindi chi può farla deve cercare di non sprecarlo quel cibo e sarebbe opportuno anche per una questione economica non gettare via in pattumiera quello che viene acquistato. Purtroppo il 37% degli italiani dichiara di far scadere i propri alimenti in frigo o in dispensa, di dimenticarli. C'è anche una questione di conservazione perché purtroppo quando andiamo ad acquistare un cibo è già stato trasportato, viene da molto lontano, quindi il famoso chilometro zero. Perché sceglierlo? Perché i cibi che arrivano da vicino, i cibi di prossimità, hanno delle ore, dei giorni di vita più bassi e quindi riusciamo a conservare più tempo in casa. Se noi acquistiamo un cibo che ha già un'aspettativa di vita piccola è ovvio che scade prima. Oggi vogliamo dare qualche suggerimento perché connesso allo spreco naturalmente ci sono delle buone abitudini, delle good habits che si possono avere e anche cercare di incrementare nella propria vita, nella propria cucina, nella propria dispensa e nel proprio frigorifero. Quindi grazie a te Barbara cercheremo di stilare delle regole utili per tutti quanti. Noi siamo qui per prendere appunti. Da cosa cominciamo? Ovviamente ognuno deve calare queste regole nella propria vita perché se si ha una grande famiglia è bene acquistare le confezioni di famiglia. Ma se in famiglia si è in uno, in due, evitare quelle confezioni che poi vengono aperte, restano aperte nella dispensa e non vengono più utilizzate. Quindi acquistare quello che effettivamente serve. E per questo una lista della spesa è molto utile. Andare a fare la spesa a stomaco pieno perché a stomaco vuoto si comprano molte più cose e anche le famose schifezze. Cercare sempre di acquistare quello che effettivamente si consuma, fare un elenco di cose che verranno consumate in settimana e magari fare anche delle preparazioni preventive che rendono possibile mangiare anche meglio, quindi i famosi minestroni, brodi, sughi, avere sempre qualcosa di pronto così quando si arriva a casa non si apre il pacchetto di patatine per esempio. E poi ricominciare a usare gli avanzi. Purtroppo il 50% degli italiani non consuma quello che avanza dalla tavola, quindi lo getta via. E poi la famosa cucina del non spreco. In questo periodo ci sono tantissime zucche, si usano tantissimi cavoli. Per esempio lo sapete che anche le foglie dei cavoli possono essere utilizzate per dei brodi per esempio oppure dei minestroni. Molte invece le gettano via, invece si risparmierebbe un bel 30% di spesa. E' anche bello perché si può anche usare la nostra creatività in cucina. Assolutamente, in Italia ci spacchiamo un po' in due perché al sud c'è molto più cultura dell'utilizzo degli scarti, dell'utilizzo dell'interezza, anche delle bucce per esempio, però si spreca molto di più. Invece al nord c'è uno spreco minore di alimenti, però si consumano molti più cibi preparati, le famose buste di insalata, i famosi cibi precotti e quindi insomma c'è questo divario. Anche se ormai il cibo preparato e precotto è diventato anche per noi italiani un salva vita. Perché con le vite frenetiche, esatto, un tempo ricordiamo che si tornava a casa a pranzo oppure c'era comunque una figura che poteva essere quella della donna familiare che aveva, c'erano tanti figli, una famiglia allargata dove si preparava per tutti. Oggi per fortuna si lavora tutti, sia anche di meno in casa, però ci sono queste famiglie davvero molto più piccole, non si torna più a pranzo, si torna molto tardi la sera, magari ci sono i ragazzi che fanno gli sport e quindi la sera spesso e volentieri si ordina anche l'avvento del deliveroo. Barbara, la pianificazione di cui parlavi prima, si dobbiamo organizzare prima. Esattamente, con una buona pianificazione si riesce anche a mangiare più sano. Per esempio, la giusta disposizione dei cibi in frigo, se si studia un pochino si capisce che nel cassetto ci vanno le verdure, nella parte centrale le carni, poi c'è il posto per le bottiglie, per esempio le uova, le uova non andrebbero mai lavate, andrebbero conservate al di fuori del frigo. È una cosa che invece molti non sanno perché l'uovo per esempio sviluppa dei batteri se viene a contatto del freddo e poi diventa subito caldo. Avete mai notato che si crea quella patina, quella acquetta fuori? Come no? Non va bene. Quindi insomma, un piccolo... La formazione, ecco, sempre la formazione in ambito alimentare aiuterebbe moltissimo. Tu devi fare spesa oggi, grazie. Io sì. Allora, andiamo in pubblicità. Ci facciamo una lista della spesa per me e per te e poi ne parliamo perché ci sono altri consigli da dare. Pubblicità. Allora, le uova ce l'ho. Il latte. Il pane ne prendo un po' di più così un po' ne congelo un po'. Quello è un po' me lo mangio subito. Le uova le segnate? Le uova sì perché se dobbiamo fare polpette bisogna usare un po' di quelle. Allora, stiamo facendo la lista della spesa con grazia perché oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione con Barbara Molinario, segretario generale di consumerismo. Stiamo imparando le regole antispreco perché gli italiani sprecano tantissimo, le case italiane purtroppo ne risente il portafoglio in primis e quindi con poche regole ma che andrebbero messe in pratica e attuate, si può cercare di sprecare in meno e il nostro portafoglio sta anche meglio. Quasi un chilo a settimana ragazzi. Un chilo a settimana è tanto. La spazzatura, ovviamente la media è di 600 circa grammi, poi ci sono regioni che sprecano di più e di meno però è veramente tanto, tantissimo. L'organizzazione del frigorifero, quello stavi cominciando a dirlo prima della pubblicità, è un modo, è un sistema che aiuta a non sprecare. Teniamolo a 4-5 gradi così risparmiamo anche di energia elettrica, il congelatore non più di meno 20 gradi, molti utilizzano i cibi congelati. Mi stavi raccontando durante la pubblicità che ieri hai preparato una bella zucca. Una bella zucca sì, l'ho congelata, un po' l'ho mangiata, un po' l'ho congelata e così non si spreca. Ma sai che anche la buccia della zucca è commestibile, quindi si può utilizzare sia nei brodi ma per esempio facendo una zucca al forno, lasciando la buccia si può mangiare ed è piena di vitamina C. E allora la prossima volta farò anche quello. Esattamente, esattamente. Non dobbiamo cadere nelle trappole del supermercato oppure se ci caschiamo in positivo perché tante volte nominavi anche i prodotti che stanno per scadere e che magari i supermercati vendono a prezzo ridotto, possiamo farci caso, in quel caso naturalmente cucinandole subito. Siamo attenti quando c'è scritto consumare preferibilmente oppure consumare entro. Se c'è scritto consumare entro spesso lo trovate per i cibi freschi, per esempio la mozzarella, ma anche in quel caso ci dobbiamo affidare ai nostri sensi, quindi l'olfatto, la vista, il gusto. Se un cibo ci sembra andato a male, non mangiamolo. Ma se sulla confezione c'è scritto da consumare preferibilmente entro, quel cibo può durare anche un altro anno. Pensiamo alle paste, al riso, ai legumi. Ci sono dei cibi che non scadono il miele, lo zucchero non scade perché non viene attaccato dai batteri, quindi per legge ci deve essere una data di scadenza. Però affidiamoci sempre al buon senso. Quindi possiamo stare attenti. Esatto, i nostri sensi hanno sempre ragione. Se un cibo ci sembra buono all'olfatto, alla vista, probabilmente ancora buono. I nostri sensi purtroppo funzionano anche al supermercato quando alla nostra altezza generalmente vengono messe dalle grandi distribuzioni proprio quei prodotti che ci invogliano, magari quelle offerte, quei 3x2, quelle convenienze. Quelle neuromarketing. Esatto, ma non sempre sono negativi, nel senso che ci sono anche delle offerte convenienti. L'importante è che noi le utilizziamo poi, quei prodotti che acquistiamo, perché ovviamente il supermercato tende a farci acquistare molto di più di quello che ci serve. Quindi attraverso i colori, attraverso le scritte. Ormai va tantissimo di moda scrivere biologico, chilometro zero, eccetera. Però andiamo sempre a leggere. Ultimamente va tanto di moda il proteico, ma in realtà noi abbiamo sempre mangiato proteico. E' naturale che i legumi sono ricchi di proteine, come la carne è ricca di proteine. Solo che il marketing ci insegna che quando va di moda qualcosa lo dobbiamo rendere, mettere in evidenza. Quindi siamo attenti. Leggiamo sempre l'etichetta che è una grande alleata. L'etichetta ci aiuta a capire quali sono i cibi più giusti per noi, le date di scadenza e anche se quel cibo può essere utile alla nostra salute e al nostro stile di vita oppure no. E allora Barbara, noi ti ringraziamo. Lo ricordiamo, oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione e i consigli che ci hai dato per non sprecare sono davvero utilissimi. Vogliamo ricordare anche il sito consumerismo.it. Tu sei segretario generale di Consumerismo. Grazie. Grazie Barbara. Buona spesa a te e a chi la farà quest'oggi. Grazie. Grazie.